e allora adesso arriviamo al dunque allora adesso no me la devi stiegare bene questa cosa mi hai lasciato lì col piatto sospeso allora quando tu ti sei accorto che lei non ti amava più eccetera hai deciso, la volevi uccidere? beh diciamo così hai avuto una cosa? per scherzo come per scherzo? per scherzo dai su ma sentiamo la struzione come per scherzo? va 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 ti ho mandato in serpente anche a casa cosa hai fatto? una vipera giuro è vero? sì un serpente? sì era il simbolo ma non è possibile nel senso che una vipera la fine di Cleopatra mi voleva far fare quella era un aspide dentro, un ripolsi dentro per farti muo no spiega questa storia è vero? sì insomma era finta via ah non era no? no ho detto che scherzava no senti una cosa perché allora tu veramente quando hai avuto questo momento adesso ero rimasto di sasso ma lei come te l'ha detto? tu lo ricordi? ha detto no Gino guarda siccome lei mi conquistò facendomi un sugo particolare per lo stomaco ti ha preso? sì mi ha preso per la gola per la gola un sugo che sa fare solo lei sì ecco ha fatto questo sugo particolare io disse bello dice se vuoi ritorna che te lo rifaccio ma pure questo torna oggi torna oggi torna domani torna oggi torna domani il gatto ci lasciò lo zampino e allora nacque questa cosa è nata questa amicizia profonda particolare passione 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 poi dopo quando è finita è finita poi dopo uno sai si dà la pace no ma come te lo dissi cioè lei come ti disse che praticamente era finita ci senti Gino non ti faccio più il sugo no è vero no così te l'hai detto così te l'hai detto no ma perché io andai a Roma andai a girare un film cantone appassionata no no ci troviamo in galleria con la Sofia Loren con la Sofia Loren e allora e allora sai c'erano altre persone c'erano altri personaggi e siccome l'amore era finito io guardando un po' in qua un po' in là insomma trovai che c'erano si poteva se fosse che fosse la volta buona ma non si saprà mai chi è però vabbè sappiamo già che nel mondo del cinema però certo non è Achille perché l'hai detto che contro te Achille non c'è mai stato niente stava con la Sofia lui ah già in Sofia poi stava con Sofia oltretutto e quindi però da qualcuno del film sono stato un regista un attore beh insomma non lo dirò mai neanche questo no è vero sono piena di segreti ma facci capire almeno sono piena di segreti allora grande passione tu lo sapevi chi era? ma neanche per sogno lui ha detto di sì vuoi a te se lo dici dillo a me dimmi chi è no vuoi a te se lo dici allora risultato risultato che risultato che era un amore che non si poteva arrestare niente lì è arrivato t'ha preso era un amore che aveva un destino anche quello sì però allora non lo sapevi doveva finire perché hai detto a lui perché hai detto a lui io non ti faccio più il sugo no e come gliel'hai detto? è così finiscono gli amori senza che uno se ne accorga non vuoi parlare finiscono perché devono finire finiscono perché non si sente più nulla non si sente più nulla non puoi parlare però la parola continua continua a fare il gentiluomo facciamo una cosa cerchiamo e pare che sia molto dura sarà per la prossima puntata devi essere stata molto monella allora a questo punto facciamo una cosa facciamo parlare un'altra invece malignetta di quella mica da ridere che ha qualcosa da dire sul festival anzi sull'antifestival Flora Dora ci presenterà ora l'antifestival Flora Dora sì Flora Dora beh insomma non è proprio un antifestival l'antifestival